Prova a mettere su una scala tutte le cose che ritieni importanti nella vita. Lascia spazio agli amici, all'amore, alla famiglia. Poi ricordati di riservare un posto ben preciso per tutto ciò che ti rende davvero felice. Ti occorre qualcosa che nessun negozio ti può vendere e nessuna persona potrà mai darti. Fai spazio a tutto ciò che ti fa sentire vivo e spensierato. E non dimenticare mai che divertirsi è la migliore cura di ogni malattia. Joe Vocal Dancer Joe Vocal Dancer